Fabio Di Cristoforo, terzo assoluto, un bel risultato, una bella soddisfazione? Una bella soddisfazione arrivare terzo, puntavo a fare un secondo, era alla mia portata, però non ci sono riusciti per problemi vari, ma il terzo assoluto è più che ottimo. Quali problemi ci sono stati? Sono stati problemi di aderenza, nei birilli non riuscivo a girare, non mi riuscivo proprio a scarpare dai birilli, quindi stavo impicciato a terra. Non è la prima volta per te qui nel comune di San Giuliano, hai partecipato anche agli altri slalom, siamo arrivati all'ottava edizione, in qualche modo siete un po' affezionati a questo percorso? Sì, mi piace il percorso, c'è una bella organizzazione, vengo da tanti anni che seguo questo slalom e mi piace. Quali sono i punti forti secondo te di questo slalom? I punti forti sono un po', c'è un po' di misto, un po' di veloce, c'è un po' di giù e un po' di dritto, c'è un po' di abbastanza, un percorso abbastanza impegnativo. Ecco, questa competizione, insomma, 35 piloti, tutti di assoluto spessore, insomma, a partire da Fabio Emanuele, anche gli altri atleti in gara, gli altri piloti, tutti molto bravi, quindi una competizione sicuramente impegnativa. Quanto tempo ci vuole per preparare gare come queste? Ci vuole tempo, diciamo che noi la macchina la curiamo noi, che abbiamo un'officina, la curiamo noi, però ci impiega tanto tempo, ci vogliono, diciamo, ci sono dei particolari che c'è sempre da vedere, ci vuole tempo. Poi, complimenti anche ai primi due, Fabio e Palumbo, che anche loro vogliono vincere come voglio, vincerei, vogliono vincere tutti. L'automobilismo è uno sport che richiede anche tanta, tanta concentrazione, quindi è richiesta anche, insomma, uno sforzo mentale e non indifferente. Sì, la prima cosa è lo sforzo mentale e fisico. Se vieni già stressato, lo sport non fai niente, bisogna rilassarsi e andare e puntare l'obiettivo. Ecco, in quali altre gare sarai impegnato? La prossima gara sarà Grassano il 15-16 giugno e poi ci saranno altre tappe che saranno agosto e settembre per il campionato Centro-Sud Italia, che al momento sono in prima posizione. Qui c'erano 35 atleti, qualcuno si lamenta dei numeri, forse un po' troppo bassi, a tuo avviso? A mio avviso è perché stanno cambiando regolamenti per noi piloti un po' troppo spesso, quindi ci impiega economicamente un pochino troppo, quindi non è semplice. È uno sport molto costoso l'automobilismo? L'automobilismo dipende come lo vuoi fare, però oggi è diventato uno sport costoso, per andare e puntare nelle prime 3-4 quinti assoluto ogni gara è costoso.